vergogna 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 in tutti i sensi allora io non ce la faccio più io così a fine anno non ci arrivo allora voi mi dovete spiegare io come ce la faccio ad arrivare al 31 dicembre 2020 se siamo solo al non mi ricordo oggi quando ne abbiamo 9 febbraio ci sono passati appena due mesi e nove giorni e io così a fine anno non ci arrivo davvero basta non si può perdere con lecce in casa con lecce ma oddio perché perché il destino è crudele contro di noi cioè ci va a segnala padula la doppietta la padula che è un morto è un morto fracido cioè che non segna da un anno ecco non segna da un anno adesso questa mascherina mi consola che siamo in tempo di carnevale e che sei una mascherina perfetta che ci può consolare anche ha vinto 3 a 0 contro il cervinara questa è un'altra consolazione ma non ce la faccio più io così io io così arrivo a pezzi o a cubetti perché non è possibile perdere con lecce e vincere con la juve in casa o c'è qualcosa che non va nella testa o c'è il ritorno di culibali in campo qualche motivo ci deve essere non mi è piaciuto il nuovo assolutamente comunque forza napoli sempre anche nelle difficoltà io così non ce la faccio io davvero a mi fate venire un infarto a me questi giocatori 11 veramente questi questi giocatori mi fanno venire l'infarto ogni partita 24 con la sabbatoria 21 con la juve 32 perdiamo ci fanno venire l'infarto il cuore non ce la fa il cuore non ce la fa ogni partita 2323 42 basta basta o si cambia o io cambio se facciamo la classifica se vediamo la classifica siamo nella parte di qua siamo al primo posto ma non possiamo vincere il campionato noi dobbiamo stare attenti cioè ci stanno sorpassando tutti forza napoli vedete c'è una bellissima bandiera ecco napoli napoli anche se in questo periodo dopo due vittorie consecutive va di nuovo in questa crisi veramente io così non ci arrivo io così non ci arrivo basta basta vergogna mi fate ridere fate ridere le mosche c'è le mosche ridono fuori e io voglio piangere per non ridere ecco fate ridere questi fate ridere questo c'è ridono tutti di noi allora forza napoli prossima partita cagliari napoli ciao è uno sfogo totale